Ciao a tutti, io sono Quoricina Faccio questo video per dirvi che sostituirò mia cugina Fiorellina In realtà sono la nuova Fiorellina, solo che mi chiamo Quoricina E inoltre io sono... Eioioioioioi Ciao Leo Ero il cavolato nero Perché? Che tu sei la seconda protagonista del canale Bravissimo! Esatto sono sono corcino alla nuova versione pepe shop di claudia spero che vi sia piaciuto e